Bene, innanzitutto grazie mille per l'invito e per l'occasione e l'opportunità di presentare il nostro lavoro in questa sede. Il nostro progetto è stato condotto sostanzialmente da due assegnisti, Rossella Pansini e Simai Gruzel, e coordinato da me e dal collega Stefano Camporeale. Parto anch'io subito con i ringraziamenti. Il capofila della filiera era nel nostro caso la soprintendenza di Siena, Rezzo e Grosseto. Come vedete abbiamo ringraziamenti, poi capirete nel corso della presentazione, rispetto anche alla soprintendenza di Roma. Avevamo anche il Comune di Siena e anche qua, come capirete in corso della presentazione, un ruolo importante è stato svolto dal Corpo dei Vigili Urbani per questioni sostanzialmente logistiche. Tre aziende del territorio, Gio Studiastie di Livorno, LDP che è un'azienda che fa GIS a Siena e ATS che è uno spin-off dell'Università di Siena. E poi tutta una serie di colleghi, il Comune voggeva anche un ruolo importante come Santa Maria della Scala, e tutta una serie di colleghi che hanno contribuito in modo importante a discutere tutta una serie di problematiche. Allora innanzitutto l'acronimo SOS sta per sottosiena. Il problema che noi dovevamo risolvere qual era? Era che la soprintendenza ha tutta una serie di compiti istituzionali, ma sostanzialmente non aveva gli strumenti tecnici e tecnologici per implementarli, secondo anche coerentemente con quelle che sono le opportunità del presente, della contemporaneità. Quindi non aveva strumenti né di conoscenza né di gestione della conoscenza delle informazioni sufficienti. Siena si poneva da questo punto di vista come un contesto ideale, ideale perché non eccessivamente grande da un punto di vista della scala, delle dimensioni, ideale anche perché molti lavori, molti studi sono stati fatti sulla città di Siena, ma la conoscenza, tutte queste informazioni non erano esattamente state organizzate in modo efficace. Quindi si collocava nel panorama come un caso studio decisamente interessante. Gli obiettivi del progetto quali sono? Quali erano? Allora, uno innanzitutto la realizzazione di un sistema informativo archeologico della città e del territorio. Le caratteristiche, ora parlare di sistema informativo nel 20 grosso modo non era esattamente una novità, però come si collocava, qual era l'idea che c'era dietro questo sistema informativo? Innanzitutto che fosse un sistema informativo basato sul web, quindi accessibile ovunque, accessibile in sovrintendenza, da casa, sul campo, direttamente sul terreno e che poi avesse anche una componente tridimensionale e anche questo è un aspetto che poi sarà progressivamente chiaro nel corso della presentazione. Io sarà progressivamente chiaro perché? Perché lavorare in 3D o costruire comunque una visualizzazione tridimensionale rappresenta uno sforzo molto importante da un punto di vista tecnologico e noi non l'abbiamo fatto con un esercizio di stile, l'abbiamo fatto per, come dire, ragioni e obiettivi molto precisi. Poi un altro aspetto è questo, costruito il sistema informativo territoriale evidentemente questo andava popolato di informazioni e questo è stato il compito di Rossella Pansini. Quindi raccogliere, individuare, scavare a questo punto nei vari archivi della città e trasferire tutte queste informazioni all'interno del sistema informativo. Un altro elemento, un altro obiettivo fondamentale qual era? Era che la soprintendenza, ma anche noi, abbiamo piena consapevolezza che mettere a regime, organizzare tutte le informazioni note fino ad oggi sostanzialmente, il che significa informazioni che vengono da letteratura, da archivi documentari, da antichi rinvenimenti, ma anche da scavi più recenti, dall'archeologia preventiva, non è sufficiente, cioè non ci fornisce delle indicazioni sufficienti, sufficientemente puntuali per lavorare nella quotidianità. Cioè viene richiesto di fare un intervento di scavo in una determinata via, in un determinato luogo. Se lì non si hanno informazioni, come dire, non si sa esattamente come intervenire. Si ha un'idea generica del potenziale archeologico della città, ma non si hanno indicazioni puntuali su quello che in un determinato luogo della città può emergere nel corso di uno scavo. E tra l'altro se queste parole vi sto dicendo non fossero vere, non ci sarebbero quotidianamente sorprese in tutte le città, in tutti i territori italiani, quando si interviene direttamente sul terreno e sorpresa sorpresa spunta l'archeologia che non si conosceva. Quindi noi cosa abbiamo pensato di fare? Per non necessariamente risolvere, ma per migliorare la situazione, abbiamo deciso di implementare un'indagine con il georadar su tutti gli spazi pubblici della città. Vuol dire le vie, le piazze, i giardini, tutti gli spazi dove potevamo, dove eravamo modo di intervenire con questo strumento. Allora torniamo un attimino alla questione del sistema informativo. Allora uno dei problemi che siamo posti è questo. Ci sono tantissimi sistemi informativi anche solo archeologici in Italia. La maggior parte di questi difficilmente comunicano tra di loro e quindi c'è una grande frammentazione dell'informazione. Costruire un sistema informativo è uno sforzo notevole. Di conseguenza noi abbiamo scelto di orientare, per così dire, le nostre energie sulla parte tridimensionale e mutuare e avviare un rapporto di collaborazione con la superintendenza di Roma che da qualcosa come 15 anni ha sviluppato un sistema che è completamente open source per la gestione di Roma. Voi potete immaginare che la gestione archeologica della città di Roma, possiamo tranquillamente affermare che se funziona a Roma funziona assolutamente ovunque. Quindi noi abbiamo avviato questo rapporto, è stato clonato il sistema informativo, abbiamo anche come dire costruito un protocollo con la superintendenza di Roma per cui in sostanza quello che noi facevamo come modulo 3D poteva essere utilizzato da loro e gli aggiornamenti che loro realizzavano sul sistema potevano essere utilizzati da noi, quindi uno scambio assolutamente reciproco anche se per noi decisamente vantaggioso alla fine. Il sistema è un sistema appunto basato sul web, ospitato dalla rete GAR, quindi dalla rete della ricerca italiana e questa è stata la nostra scelta da questo punto di vista. Per quanto riguarda la parte di immissione delle informazioni, quando vi parlavo di scala, noi a Siena abbiamo completato questa fase di lavoro a Siena, tra l'altro anche svolgendo altri compiti nell'ambito del progetto, immaginate che a Roma l'immissione dell'edito, cioè di quello che è ancora in corso dopo 15 anni di attività, quindi la scala è decisamente un aspetto importante e rilevante. Allora qui vedete in rosso gli spazi pubblici a cui facevo riferimento prima della città di Siena e in giallo le aree che noi abbiamo acquisito. Da un punto di vista tecnico, diciamo soprattutto il primo anno, anno e mezzo, è stato un po' laborioso perché utilizzavamo, ora vi facciamo vedere il sistema che utilizzavamo, che funzionava in coordinato con una stazione totale robotizzata. La stazione totale è che va spostata ogni volta perché deve avere visibilità orizzontale. È una questione tecnica, ma negli ultimi mesi siamo passati invece all'uso di un sistema GPS con la piattaforma inerziale, il che ci ha permesso di acquisire non il doppio, ma diciamo dieci volte tanto di le aree che riuscivamo ad acquisire in precedenza. Quindi anche, come dire, rispetto alla questione della replicabilità, delle tempistiche necessarie per svolgere questo tipo di attività, nel corso del lavoro sono cambiate una serie di questioni tecnologiche che consentono di applicare questo tipo di approccio in modo molto più rapido. Allora qua vediamo se funziona tutto. Qui è solo per farvi vedere l'acquisizione che abbiamo fatto in Piazza Duomo. Vedete, avevamo questa macchinetta elettrica che trascina l'antenna radar. In questa parte abbiamo il prisma e la stazione totale che georeferenziava tutte le misure appunto in modo automatico. Ecco, uno dei motivi per cui noi avevamo bisogno di un GIS tridimensionale o comunque di un ambiente tridimensionale è perché le misure radar sono tridimensionali. Quindi per analizzare ciò che è presente nel sottosuolo era per noi molto importante poter visualizzare poi vari risultati in un ambiente tridimensionale. Ora qua vedete, in questo caso lo vedete in un ambiente bidimensionale, alcuni risultati in Piazza Duomo. quello che per esempio è emerso in Piazza Duomo, in Piazza San Giovanni, Jacopo della Quercia, innanzitutto sono emersi tutta una serie di infrastrutture che molte delle quali non erano conosciute. Ecco, un altro aspetto interessante di questo progetto è che oltre all'archeologia noi mappiamo anche i sottoservizi, che è un altro aspetto assolutamente, come dire, fondamentale per la gestione di una città. Comunque nel caso specifico sono emerse tutta una serie di evidenze archeologiche, chiaramente interessante, in Piazza San Giovanni che precedentemente non era una piazza, cioè quando hanno realizzato la facciata settentrionale della seconda facciata del Duomo di Siena hanno creato uno spazio che precedentemente non c'era, era occupato da strutture e queste strutture noi le abbiamo viste in modo piuttosto chiaro. Questo è un altro filmatino che vi mostra come lavorare in ambito tridimensionale, soprattutto in ambiente urbano, sia straordinariamente interessante. qui vedete l'area del Duomo di Siena, il rilievo tridimensionale dell'edificio e queste colorazioni che vedete al di sotto sono infrastrutture, elementi archeologici e tutto ciò che è nel sottosuolo. L'opportunità di gestire queste informazioni in ambito tridimensionale è qualcosa, da un lato di innovativo, da un lato di straordinariamente utile, perché in ambito urbano poter gestire e visualizzare, osservare, avere la percezione del rapporto tra l'edificato attuale, gli edifici, le strutture e ciò che c'è nel sottosuolo diventa straordinariamente interessante sia per le sovrintendenze ma anche per noi da un punto di vista proprio del rapporto dei vari elementi presenti. Allora, torniamo alla presentazione, eccoci qua, rimetto a tutto schermo. Allora, adesso, Rossella, vi fa vedere il sistema informativo velocemente, il WebGIS. Intanto, in questa slide, una delle cose che vedete è che nel corso del lavoro, ad esempio, abbiamo trovato, ora questo ogni tanto succede, abbiamo scoperto, che esisteva un modello con tutte le volumetrie della città di Siena. Quindi, quello che vedete in marrone, senza la texture, è il modello tridimensionale delle volumetrie di tutta la città di Siena. Quindi, non solo per il Duomo, del quale avevamo fatto una scansione tridimensionale, ma anche per tutto il resto della città, noi abbiamo all'interno del nostro sistema informativo le volumetrie che possono essere messe in relazione con quello che c'è nel sottosuolo. e ora passo la parola a Rossella. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sì, sì. Allora, vi faccio solo vedere, questo è il portale, il nostro WebGIS, è già online, si trova su sitas.archiositarproject.it e si organizza, diciamo, sulla base di due dimensioni. La prima, la dimensione bidimensionale, qui trovate tutti i dati che sono stati raccolti nelle ricerche d'archivio, sulle pubblicazioni sugli archivi, quindi sull'edito e sull'inedito, che riguardano le ricerche sull'archeologia nella città di Siena. Tutte le geometrie sono associate a una scheda informativa che contiene tutte le informazioni disponibili. In questo caso ho preso quella dei nostri rilievi, ma ce ne sono altre. Per esempio questa è degli scavi Santa Maria della Scala, con tutte le geometrie e tutti i dati di scavo che sono stati raccolti e che sono sostanzialmente ancora inediti, però adesso sono stati messi a disposizione di chiunque voglia visitare questo portale. Quindi insieme a questa prima dimensione bidimensionale abbiamo anche la dimensione tridimensionale con il visualizzatore 3D all'interno del quale ci sono le informazioni che abbiamo raccolto nelle nostre campagne di rilievo georadar. In questo caso avete l'esempio del Duomo di Siena, vedete che abbiamo la nuvola di punti e al di sotto della nuvola di punti ci sono le geometrie che sono state inserite, anch'esse associate a delle schede informative e che appunto vengono classificate sulla base di strutture archeologiche o sottoservizi. Questa piattaforma è una piattaforma che attualmente è in uso appunto alla nostra soprintendenza. Allora, grazie, giusto velocemente alcune considerazioni conclusive. Allora, dunque, rapidamente, allora questo sistema informativo presenta sicuramente il grosso vantaggio di essere basato sul web, questo vuol dire che lo aprite con un qualunque browser, ci navigate con un qualunque browser, questo vuol dire che lo fate sul telefono, lo fate sul tablet e lo fate anche in tempo reale sul terreno. Questo è qualcosa di straordinariamente comodo per chi dall'ufficio poi deve spostarsi e andare a fare questo tipo di, a svolgere questo tipo di attività. In modo per certi versi, mi confesso, un po' inaspettato rispetto alla fase progettuale, noi il visualizzatore 3D l'avevamo costruito, pensato per le anomalie. Poi dopo ci siamo resi conto, grazie anche alle volumetrie, che questo diventava estremamente interessante anche per gli elevati. E in un contesto di soprintendenze definite olistiche, quindi insomma dove tutto è raggruppato, dove le architetture devono dialogare con l'archeologia, questo diventa uno strumento estremamente, come dire, strategico, altamente interessante. Due parole sulla questione della replicabilità di questa esperienza. Questa esperienza è già in corso, è già stata replicata, l'Università di Bologna sta lavorando ad Ascoli Piceno per fare sostanzialmente esattamente la stessa cosa. Questo è stato replicato in Italia in questa occasione, replicato a York in Gran Bretagna da un collega che appunto ha ascoltato una presentazione, gli è piaciuta l'idea e sta lavorando in questa direzione. Però ecco, evidentemente questo tipo di soluzione, di proposta, è replicabile per qualunque centro storico, per qualunque contesto. E francamente mi sono piaciute molto le parole del dottor Baccio all'inizio, dove parlava invece anche di uno sforzo ulteriore da parte della regione per stimolare ulteriormente processi di questo tipo di trasferimento, perché poi molti di questi progetti, cioè il rischio a mio avviso è che possano essere replicati da altre università in altri contesti, perché poi a volte, come dire, una volta avuta l'idea e una volta realizzata una prima esperienza di questo tipo, come dire, si può copiare, mettiamola in questi termini. A noi l'idea che avevamo inizialmente era quella, per esempio, di far però proseguire il gruppo di lavoro e magari farlo proseguire attraverso lo sviluppo di una spin-off che è finalizzata a realizzare questo tipo di attività. Quale sarebbe in questo caso il valore aggiunto? Beh, va da sé che, come dire, realizzare sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista anche logistico questo tipo di attività richiede un'esperienza che una nuova azienda, della nuova imprenditoria potrebbe mettere in pratica con grande efficacia. Ci sono adesso dettagli su quali ci addentriremo.